ecco vedete siamo sul viale forlanini e questa situazione direi anche molto pericolosa c'è questa macchina che sta bruciando già da cinque minuti praticamente guardate che cosa sono le macchine che stanno passando lateralmente forse hanno chiuso il viale fortunatamente no non ancora sono stati chiamati sicuramente polizia provato anch'io adesso a farlo ma ancora non si vede nulla suppongo che quel signore con l'ombrello sia il proprietario si sta chiamando e telefonando ma come vedete non è ancora arrivato nessuno e la situazione effettivamente è abbastanza delicata vedete anche qui le macchine dall'altra parte del viale stanno indugiando assurdo però guardate come si stanno sviluppando le fiamme è veramente pericoloso inizia a essere veramente una situazione molto difficile un po' difficile aia porca puttana è scoppiata già una gomma adesso man mano scoppieranno anche le altre è veramente assurdo che non sia arrivato nessuno ancora se provo a richiamare ancora io adesso se provo a richiamare ancora io quindi Grazie a tutti